Amici ascoltatori dell'opinione equestre, quarto giornata di gare qui presso gli impianti della Rezio Quest & Center. Andiamo a vedere il barrage del Gran Premio del Silver Tour, Francesca Ciriesi, il suo color of fun, partita subito attaccando la gara, bene sui primi due e c'è un errore al numero 3. Continua la gara sulla combinazione, verticale, boxer, bene sulla tavola, si allarga leggermente per l'ox, mano destra sull'ultimo salto. Peccato, quattro penalità, tempo 42-84.